Siamo arrivati. Go Gemma! Go go! Don't give up! Go! Go Gemma! Inghilese Go go! Dai dai dai! Italiano! 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 Ehm! Eh, perchè sarà under 23, sarà più giovane, avrà 17 o 18 anni. Ah! Dai Nicole, dai! Io con la cinta si c'è sempre i piedi, se sono partiti assieme... Eh, ma perché sono più giovani, solitamente se sono più giovani vanno un po' meno forte di chi ha 23-24 anni.